Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa crianza, ognuno ha datene questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno, di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado, e con dei fiori adorno il loculo marmorio e zivicenza. Stanno mi è capitata un'avventura, dopo di aver compiuto il triste omaggio. Maron, si ci pensa che paura, ma poi facetto un anno mi è coraggio. Ho fatto il kiss, statemi a sentire. S'avvicinava allora la chiusura. Io, tomo-tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ostemma cagurona un coppa a tutto, sotto una croce fatte in lampadine, tre mazze rose con una lista a lutto, cannella, canna lotto e sei lumine. Proprio azzaccata la tomba di suo signore, c'è stata nata tomba piccerella, abbandonata, senza mancano fiori, passegna solamente una crocella. E in Coppa Croce, appena si leggeva, è sposito Gennaro, netto Urbino. Guardandola che pena mi faceva, sto morto senza mancano lumine. Questa è la vita, capo a me pensava, chi ha avuto tanto, chi non aveva niente. Questo povero marone si aspettava che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticavo questo pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte, e io rimanete chiuso prigioniero, morto e paura, nanzi di canna lotto. Tutta una tratta che venga lontano, due ombre a avvicinarsi alla parte mia. Pensai, sto fatta a me ma parastrana, sto sciatata, rorma o è fantasia? Ata che fantasia, ero un marchese, con un tubo a caramella e coppa strana. Chi l'ha apprezzato a essere un brutto arnese, tutto fatente e con una scopa a mano. E chi l'ha certamente don Gennaro, un morto poverile, lo scopatore. In testo fatti non c'avevo chiaro, sono morto e si ritirano a quest'ora. Potevano stare a me quasi in un palmo, quando un marchese si fermai il botto. Sa vota e tomo tomo, calmo calmo, ricetta a don Gennaro. Giovanotto Da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non vi avesse fatto chi sto tuor. Mia moglie è stata a fare sta fassaria. Io che potevo fare se ero morto. Se fosse vivo, vi faria contento, pigliasse la casciulella che qua tosse. è proprio un hobby da sto momento, ma ne trasessi rindana da fosse. E cosa aspetti, o turbe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammi vedere, piglia sta violenza. La verità, Marchese, mi sono scusato di sentire. Si perde la pacienza, mi scorda che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti chiederà essere un Dio? C'è dentro, vuoi capire che si mi vuole. Morto sei tu e morto soppurio. Ognuno con manate, tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbe i Natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali. Tu qua Natale, pace, che epifania! Tu vuoi mettere in capo, rinta la cervella, che stai malato ancora di fantasia. Amor, tu sai che re? È una livella. Un re, un magistrato, un grande uomo. Tra sempre questo cancello, ha fatto il punto, che ha perso tutto. La vita è pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora di questo punto. Perciò, stiamo a sentì. Non fa ora estiva. Supportiamo vicino, che ti importa. Sti pagliacciata, e fanno sulle e viva. Noi siamo seria. Appartenimmo a morto. Bentornati sul resta quel che resta. Io sono Nino. Devo iniziare questa seconda parte di video ringraziando e chiedendo scusa a Totò. Grazie, Totò, ovviamente, per questa meravigliosa poesia che tu hai composto. E non solo per questa poesia, ma per tutto. ciò che ci hai regalato. E scusa, scusa se mi sono permesso di leggerla, nemmeno di interpretarla, di leggerla. Poi, vabbè, ho cercato di dargli comunque un minimo di interpretazione, ma di leggerla. Quindi scusa. E se ho ringraziato il principe Antonio De Curtis, Totò, devo ringraziare un altro Antonio. Quindi Antonio, no? Che ricorre sempre in questo video. Antonio è un ragazzo, è un amico che qualche giorno fa mi ha suggerito di fare questo video. Ha detto, ho un'idea per te, perché non porti sul tuo canale resta quel che resta un video dedicato alla livella di Totò. Probabilmente, magari Antonio è anche particolarmente legato a questa poesia, non lo so, me lo dirà. E quindi mi ha dato questo suggerimento. io inizialmente gli ho detto guarda, vediamo, non lo so. Cioè, il mio era un più un no che un sì, perché sinceramente sono stato colto di sorpresa e non sapevo nemmeno come impostare questo video, tant'è che l'idea poi addirittura di leggerla, di mettere il pezzo dove io la leggo mi è venuta all'ultimo, prima di farlo praticamente. E poi, onestamente, non mi sentivo nemmeno tanto all'altezza. E ancora adesso non mi sento all'altezza. è vero che vi sto portando anche tutto il discorso di Edoardo, però non lo so, una poesia, una cosa così, non lo so, non ero sicuro. Però ho detto facciamolo, è stato un prezioso suggerimento, arrivato da una persona tra l'altro che non manca mai occasione di dimostrare la sua stima nei miei confronti per quello che comunque cerco di portare su questa piattaforma, stima che, caro Antonio, tu sai, e se non lo sai te lo ribadisca adesso, è assolutamente ricambiata e quindi ho detto ok, facciamolo e facciamolo proprio in occasione del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Totò scrive questa poesia nel 1964 o comunque la pubblica per la prima volta nel 1964, pochi anni tra l'altro prima della sua morte che sopraggiungerà nel 1967, quindi un Totò maturo che compone questi versi perché Totò non è stato soltanto un attore, un grande attore, la maschera napoletana nel cinema italiano, ma è stato anche un poeta, è stato anche un paroliere, pensiamo a su tutto, insomma, la canzone Malafemmina, però appunto è stato anche un poeta e la livella è un po' il suo simbolo, da questo punto di vista quello della poesia. voglio dire voglio dire che insomma la maggior parte dei napoletani la conosce se non proprio intera, parola per parola, verso per verso, ma comunque già solo di nome, il titolo, il modo di dire a livello di Totò lo sa bene, oppure magari determinati versi, qualcuno soprattutto l'inizio, ogni anno, il 2 novembre e molti altri il finale, il nuisim serio appartenì ma a morte. Leggevo su internet anche magari quali possono essere state le fonti di ispirazione di Totò per questa poesia e vi leggo questo piccolo estratto che ho trovato che parla della giovinezza di Totò a Napoli, originario del rione Sanità, da bambino spesso si ritrovava a giocare a nascondino nelle catacombe di San Gaudioso vicino alla chiesa dove faceva il chirichetto. Nei cunicoli delle catacombe c'era un affresco di Giovanni Balducci raffigurante uno scheletro per simboleggiare la natura effimera dei beni mondani che cessano di avere senso di fronte al potere della morte che per l'appunto livella perché appunto Totò cita insomma in questa poesia addirittura titola questa poesia la livella proprio come lo strumento che serve a verificare se un piano è perfettamente orizzontale comunque se non c'è una pendenza e quindi lui l'associa alla morte che quando arriva quando sopraggiunge chi ci finisce nella rete e tutti ci finiamo nella rete ovviamente della morte alla fine poi nel trapasso si mette sullo stesso piano degli altri quello che è stata quella che è stata la vita terrena non esiste più quindi può essere stato ricco può essere stato povero finiamo tutti sullo stesso piano affronta il tema della morte che è un tema che sempre nella letteratura soprattutto come nel teatro ma anche nel cinema è un tema molto sfruttato ho parlato di questa cosa anche recentemente nel percorso delle commedie di Edoardo De Filippo che in tantissime commedie inserisce il tema della morte in maniera seria in maniera invece magari perché i suoi protagonisti sfruttano il discorso della morte magari anche finta perché mi chiedo perché e mi rispondo anche probabilmente perché innanzitutto perché la morte è l'unica cosa certa si dice anche no così l'unica cosa certa che abbiamo può arrivare prima può arrivare dopo ma siamo sicuri che arriva per tutti e che non fa ecco differenza di estrazione sociale e poi perché c'è il grande mistero del dopo perché poi insomma qui subentra magari il credere il non credere finisce tutto oppure c'è un continuo non al di là questi poi sono discorsi anche grandi che non devo inserire in questo video sicuramente però questa certezza della morte è quindi una cosa che sicuramente puoi inserire in qualsiasi contesto artistico e il discorso del non sapere che cosa c'è dopo ben si sposano con la possibilità di creare appunto opere tra cui appunto poesie e Totò mette questi due personaggi poi in realtà questa poesia io l'ho letta ed è facile immaginare i protagonisti di questa vicenda proprio con le sembianze di Totò e con la voce di Totò tra l'altro vi basta cercare online e trovate questa poesia recitata interpretata proprio da Totò altro che me ci mancherebbe altro quindi ascoltatela assolutamente interpretata da Totò e quindi viene facile però immaginare questi personaggi con le sue sembianze con la sua voce andare a creare quasi questa sorta di sketch teatrale con questo nobile che nonostante insomma sia morto ancora ha questi comportamenti da superiore diciamo così nei confronti dell'umile Neturbino e con quest'ultimo che inizialmente continua ecco anche lui nonostante si parli di persone morte a chinare il cavo comunque a essere umile nei confronti del marchese del nobile ma che poi a un certo punto si risveglia non tanto per una questione di voler riscattare se stesso come persona ma per mettere il marchese di fronte alla realtà spietata di questa morte appunto che funge da livella e che smette di creare delle pendenze quindi se nella vita terrena il nobile si troverà su un piano un po' più rialzato rispetto al Neturbino anche se questa cosa magari non è giusta ecco che nella morte insomma tutto segue libre insomma una poesia molto bella dal significato molto profondo che è stato giusto portare su questo canale e quindi io ancora una volta ringrazio Antonio per questo bel contenuto che mi ha permesso insomma di realizzare quindi noi ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao